È venuto il momento di dire addio al 2022, è sempre un po' triste, gli addi sono un poco così, sono tristi ma anche importanti, perché gli addi più tritti sono quelli che non si dicono, per cui dico addio a questo 2022 che si ne va, ci lasciamo dietro alle spalle, per me è stato un anno molto bello, ho vissuto momenti magici, ho potuto avere contatti con delle persone meravigliose e senz'altro vi dicerterò quest'anno come un anno molto molto bello, proprio tre parole voglio dire quest'anno che se ne va, grazie grazie grazie, perché veramente è stato un anno che mi ha riempito il cuore di momenti molto intensi, momenti molto belli, quelli meno belli non li voglio ricordare, ma veramente non ho lamentelli su quest'anno, proprio quando non c'è la possibilità di reclamare qualcosa al mondo, all'universo o a Dio di qualcosa che non sta bene nella mia vita in questo momento, per cui solamente posso dire addio quest'anno portando con me tante cose buone, per cui spero che anche tu possa vivere questo anno che comincia tra poche ore, con gioia, con allegria e con speranza. Spero che ci potremo vedere presto e ti mando un abbraccio forte, 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 a te tante il cuore.